Quali sono le carte appena entrate nella limited list del TCG di One Piece? Che leader andranno a colpire? E in che modo l'introduzione di queste restrizioni cambierà il volto del meta attuale? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Alla fine è successo. Pessima notizia per i giocatori di Rosso che dopo la messa al bando della Moby Dick, la stage pensata appositamente per il barba con ciurma annessa, vede ulteriori restrizioni imposte niente di meno che dalla casa madre in persona. Infatti dalla Bandai è giunta la notizia che, pochi giorni fa, a causa di un predominio indiscusso da parte dei deck rossi nel meta, i quali capisaldi vengono rappresentati dai leader Zoro e per l'appunto Newgate, si è giunti ad una decisione, introdurre oltre alla Banned anche una limited list dove le carte che andremo a vedere fra poco fungeranno da apripista. Ma perché questa scelta? Nella speranza che, grazie alla decisione presa, si vada a calmierare un meta oramai a senso unico, evitando così un crollo dell'interesse da parte di diversi giocatori, soprattutto se alle prime armi, che potrebbe, a lungo andare, portare al collasso definitivo del TCG di One Piece. A cosa porterà però questa decisione? Di scenari ce ne sono, a mio parere, tre, che vedremo più nel dettaglio toccando dei punti che riguarderanno collezionisti e, soprattutto, giocatori. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali carte sono entrate a far parte della limited list e in base a quale principio sono state scelte. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima carta inserita nella lista è il Barba Lato Character. Il Colosso, quando entrerà in campo, potenzierà di ben 2000 punti il valore di forza di un leader fino al vostro prossimo turno, vietandovi inoltre, per l'arco di quello corrente, di aggiungere carte vita dalla fila dedicata alla mano attraverso l'innesco di effetti. In più, assegnandogli due Don in fase di attacco, andrà a mettere KO un character con potenza pari a 3000 o inferiore sotto il controllo rivale. Perché questa carta è stata limitata? Quando questa carta viene utilizzata con Edward Newgate o Rorono Azzoro, entrambi leader, la durata degli effetti fino a uno dei tuoi leader ottiene più 2000 fino all'inizio del tuo prossimo turno e, dopodiché, non puoi aggiungere alla tua mano le carte vita usando i tuoi stessi effetti durante questo turno, conferisce ai giocatori un vantaggio sostanziale sul proprio avversario. Inoltre, utilizzando questa carta in sinergia con altre carte come Radical Beam o Garpoint, la durata dell'effetto aumenta ancora di più. In aggiunta, l'introduzione di Izo rende possibile replicare questa situazione con più facilità. A causa di quanto detto sopra, questa carta viene utilizzata spesso nei tornei e ha un'alta percentuale di vittoria, impedendo l'utilizzo delle tattiche di attacco e difesa che sono alla base di questo gioco. Di conseguenza è stata inserita nella lista delle carte soggette a restrizioni, massimo una copia in ogni deck. La seconda carta aggiunta è stata Marco la Fenice. Il blocker di OP02, quando verrà distrutto in battaglia bloccando un attacco avversario, potrà tornare in campo in stato di esaurito se le vite a propria disposizione saranno due o meno, se scarterete inoltre una carta dalla mano con tratto Wild Bird Pirate. Perché questa carta è stata limitata? Quando questa carta viene utilizzata con Edward Newgate o Rorono Azzoro e entrambi leader, il suo effetto, Home KO, svolge una funzione chiave nell'aumentare la resistenza del mazzo, che risulta ancora più alta combinandola con le carte Radical Beam o Gar Point. Inoltre, l'introduzione di ISO rende possibile replicare questa situazione con più facilità. Terza ed ultima carta limitata ha visto Radical Beam fare la sua comparsa. In fase di counter, l'evento rosso potrà aggiungere a costo 1 la bellezza di ben 2000 punti ad un character o leader sotto il vostro controllo, con l'innesco situazionale che andrà ad aggiungere ulteriori 2000 punti se le vite a propria disposizione risulteranno, anche qui, come per Marco, due o meno. Perché questa carta è stata limitata? Quando questa carta viene utilizzata con Edward Newgate o Rorono Azzoro e entrambi leader, e viene inserita in un deck con Gar Point, aumenta notevolmente la resistenza del mazzo, nonostante abbia un costo pari ad 1. Inoltre, se usata con le carte sopra citate, raggiungere la condizione, se hai due carte vita o meno, diventa più facile. Bene, ora che sappiamo quali carte sono state selezionate ed il perché, anche grazie alle magnifiche grafiche fornitemi dai signori di One Piece Car Game Italia, vi lascerò il link al loro profilo Instagram in descrizione, prendiamo in esami i tre punti che sicuramente risentiranno maggiormente di questo fattore, ovvero il lato collezionistico, giocato ed il meta. Per chi colleziona, di sicuro l'avere una di queste carte nella raccolta non rappresenterà più il possedere un pezzo raro, tutt'altro. L'abbassamento dei prezzi che si prevede da qua a quando arriverà OP04 sta rapidamente prendendo piede, ma attenzione però, sarà da ricordare che queste restrizioni potranno essere revocate con l'arrivo di Kingdom, quindi non fatevi prendere dalla frenesia del momento e date uno sguardo al meta asiatico prima di vendere in fretta e furia, così da comprendere al meglio se i leader colpiti ora verranno graziati a settembre. Comunque ci sarà poco da dire, l'equazione parla chiaro. Carte giocate in meno copie è quasi sempre uguale a costo in calo, quindi aspettatevi qualche ribassone da qui a poche settimane, ma spero come sempre vivamente di sbagliarmi. Per il lato giocato tutti gli appassionati del rosso come me si ritroveranno a dover rielaborare le proprie profile, non solo di Barba ma anche di Zoro, Ace, Luffy e tutti gli ibridi come Garp, ad esempio colmando quel vuoto che dovrà ad ogni costo essere riempito. 9 carte in meno ad esempio per il baffo bianco sono davvero molte, ma ci sono diverse sinergie tra carte che possono ancora farsi odiare che non sono ancora state utilizzate, come ad esempio le fiery doll in combinazione con Barba, attacchi da 10k a go go e si va di ignoranza putente. La prossima frontiera del papà signori, il Newgate picchiatore. A parte gli scherzi, neanche tanto, magari me lo monto davvero un deck del genere, di alternative non ne mancheranno, quindi aguzzate l'ingegno e mostrate a tutti gli appassionati delle altre tonalità che ci vuole ben più di una lista delle limitate per limitare il potere devastante del rosso. A livello di meta invece molto cambierà, i tier 1.5 ora diverranno i nuovi re sovrani dei mari, primi tra tutti Luci e Katakuri che al momento vedo messi meglio rispetto a tutti gli altri. Ma attenzione comunque a Big Mom, insomma, si sta rimettendo tutto in ballo. Prima di concludere volevo ricordare inoltre che la Limited sarà valida unicamente nelle regioni occidentali, escludendo quelle orientali come Cina e Giappone, dove invece resterà in vigore unicamente la Banned, con Kabaji e la già menzionata Moby Dick. Quindi se volgerete lo sguardo al meta asiatico, tenete conto che essi si troveranno un set avanti e che non sarà sicuro che quando noi arriveremo ad abbracciare fra poco più di un mese il quarto capitolo di questo GCC, potremo giocare le loro stesse carte. Una cosa è certa, il TCG di One Piece ha sempre avuto dallo 0-1 i suoi sovrani, ma ora con l'arrivo di questa novità, che entrerà in vigore a partire dal 28 di questo luglio, tutto è completamente incerto. Chissà se vedremo sorgere un nuovo re e chissà se questo non porterà ad altri ban o altre restrizioni che vedranno mutare nuovamente il meta. Solo il tempo e i signori della Bandai sapranno darci una risposta. E voi come avete preso la notizia dell'introduzione di questa lista? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.